Primavera in festa e questo è il nome della manifestazione organizzata dal centro commerciale naturale di via Ballero a Nuoro col patrocinio del comune. Il 25 aprile per tutto il giorno la via sarà animata da una serie di appuntamenti che coinvolgeranno oltre 20 attività commerciali. Sono in programma eventi di carattere culturale, enogastronomico, musicale e ludico. Gli operatori commerciali apriranno le proprie botteghe per rinsaldare quel rapporto diretto con i clienti che rappresenta la particolarità rispetto alla grande distribuzione. Il programma dell'appuntamento è stato presentato stamattina nel corso di una conferenza stampa. All'incontro sono intervenuti l'assessore alle attività produttive Francesco Guccini, due operatori di via Ballero, Salvatore Goddi e Mariangela Sanna e Daniela Lupo che organizzerà la tappa nuorese del concorso La fotomodella italiana. Presente anche Fabio Lampis dell'associazione degli hobbisti nuoresi. L'assessore Guccini ha ricordato l'importanza di manifestazioni come Primavera in festa che vedono come protagonisti gli operatori commerciali. Enrico ha articolato il palinsesto degli eventi che è stato presentato da Mariangela Sanna. Sarà coinvolto anche il liceo linguistico che ospiterà due proiezioni a cura degli studenti, un film sulla resistenza e uno sui giochi dei nostri nonni, Yoca Yoca, realizzato da Meno Piccirillo, Giovanna Scano e Franco Serra. I bambini saranno i protagonisti con tanti eventi ludici e sportivi loro dedicati. Spazio anche alla musica e al ballo si chiuderà con i telescopi dell'associazione astronomica nuorese che permetteranno l'osservazione del cielo stellato. Francesco Guccina, assessore comunale alle attività produttive. Con questa manifestazione organizzata dal centro commerciale naturale di Via Ballero si chiude il cerchio? Sì, si chiude il cerchio. Abbiamo cercato di valorizzare tutte le attività commerciali presenti in città, cercando naturalmente di riavvicinare il consumatore, quindi i cittadini, alle attività sotto casa per rivitalizzare l'economia locale. Quindi diciamo che il motivo dominante è quello di continuare a fare gli acquisti a nuoro se è possibile e finché è possibile. Naturalmente abbiamo cercato di mettere sotto i riflettori tutte le attività commerciali, da Via la Marmora, al Corso, Via Roma, naturalmente Via La Repubblica e siamo arrivati a chiudere quest'anno con il centro commerciale naturale di Via Ballero.